ci sono uno di questo unissimo video su fortuna battle royale oggi ragazzi proveremo i comandi naturalmente con mouse e tastiera di mit esattamente ragazzi sono andata a vedere un bordiello dei video soprattutto gli ultimi per vedere per appunto gli ultimi comandi attiva che figata su me sono una figata pazzesca la stagione 5 eccoci qua ragazzi livello 60 di lobby 100 di post tutte le sfide completate abbiamo qualcosa nello shop di 19 un giorno alla fine della stagione sciocchiamo iscriviti al canale Allora ragazzi, ecco si corrono i comandi da Mitten Allora in Allora in dire di andare nel post dove va Mitten Quindi andare non per la piazza e il snob Ragazzi, se sarò un pochettino più nabbo ti può sparare a prendere la mira Perché il mio mouse, quello che uso di solito, si è scassato E perciò devo utilizzare un altro da lavoro Perché c'è un sensore che, vabbè, non ne parliamo, fa schifo il sensore E perciò, insomma, è molto poco preciso Cioè, insomma, c'è ragazzi, guardate, il muro con X La piattaforma con C, la scala con V La trappola con B, ma che cavolo Cioè, si prende con E, vero, ok La prima arma con 1, è il piccone Cioè, ok, la prima arma con 1, è il piccone Ah, è il piccone con Q, bene Oddio Cioè, ragazzi, è una cosa impossibile Va bene M4 Oh, posso impassare, ok Mi sa che non stare nulla Infatti Non Icona Ok Quindi scala con V Va bene E poi come si leva la scala? Di nuovo V? No, Q Mi si... Oddio Perché ci devono essere problemi seri Come cacchio l'ha per inventare? Oddio Come cacchio si toglie? Ok La traietta Ah, la prendo Oddio, ragazzi, è una cosa impossibile Come fa Mita a giocare con questi tasti? Non ci posso credere È una cosa impossibile Allora, il piccone con Q Me lo devo mettere in testa Q Quindi ragazzi, anche se sentite tipo un tick Diciamo un rumore del mouse diverso È sempre per quello il motivo Ragazzi, sto facendo così piano perché mi è sembrato vedere qualcuno Vada ragazzi, comunque la creco ormai è una cosa... Cioè, gigantesca, guardate Non lo so Non so veramente che c'era che a fare lo schifo Ma che sono... Cioè, zeta Ma come fa ad arrivare a zeta? Sto tipo Mamma mia Zeta Va bene Mi sono salito qua sopra Giusto che avrei una posizione di vantaggio Visto che... Già fa lo schifo Poi, con una posizione di svantaggio Però qualcuno c'è E ciò era anche abbastanza intuibile Muoviamoci sempre Non stiamo mai fermi Ho bisogno di scudo E un pompa Adesso anche cura Bello Questa mi serve Manco al cacchio Ragazzi, con V Scala No, con XX il muro X il muro X il muro Scala V Ma rompere Che cacchio Che cacchio Cioè, io sono stato a quel tempo fermo Perché stavo cercando di capire Come Mettere il muro Ma come si fa X No No Sì X Oddio È una cosa impossibile Ecco, io ci provo Ragazzi, faccio un'altra partita E poi rimetto i miei comandi Ma per rimettere i miei comandi Dovrei riutilizzare il mouse scassato Quindi mi sa che Finché non prendo il prossimo mouse Mi devo ottenere questi Cioè, con il pollice Come cacchio fai? Cioè, in verità Lui prende Z ZXC Ma, cioè, veramente Io Ci ho provato È ancora peggio Quindi, scusatemi Se non uso proprio quelli Ma è veramente una cosa inutilizzabile Cioè, cominciai ad arrivare alla Z Mentre costruisci Dai Così, almeno ho preso la X Che è un pochettino più utilizzabile Se no Pino, pino Cazzo, però volevo provare a costruire qualcosa Oddio, ovvero La mappa con M Io di solito metto tab Invece M Bello schifo Allora, provo ad andare alla prigione C'è veramente un posto più calmo Di quello E vai, blocco numerico Salvami Cambiamo colore della tastiera Che mi piace troppo Ok, sfetta Ho aggiustato in tutte Se qualcuno Come fa a stare qualcuno Dai, madonna Ma prendo la prima arma E poi ti vado subito incontro Ecco, là per esempio C'è un'arma Bella Mi piace Spero Che schifo Mamma mia Un'arma più schifosa di questa Non l'ho mai vista No No Giacchia Come prima Come prima arma Pensavo fosse un pompa del nonno Cioè Pensavo fosse un pompa del nonno Blu Un M4 Sarebbe stato più utilizzabile Però quello non ha Ah, ecco Ok, adesso lo posso andare a spaccarlo Vai Vado Madonna Ehi, ehi Calma, calma, calma Calma, calma Ma come? Dai, raga, madonna Mi switcha l'arma Che schifo Quanta vita gli ho tolto Perché una volta ero più 66 Madonna Sono interrogato Perché io Guardo la tastiera Cioè È impossibile Con questi comandi Come si fa? Ah, non dovevo tenere il pompa Non dovevo provare a sparare con la revolver Revolver Vabbè Ora, raga Non so che cosa scegliere Se il mouse è scassato Ai miei comandi Ficcate se le platini Se il mouse è scassato Ai miei comandi Oppure I comandi di meat Però Un mouse buono Che poi buono non è Semplicemente non è scassato Cioè È una cosa Horripilante Vorrei farvelo vedere Ma Cioè C'è un sensore Di quelli a laser Vecchisi Poi tutto impolverà Mamma mia Perché non mi va avanti? Yee Problemi con le tastiere Però la tastiera Direi che è buona Ok E lascia il pump Schifoso legge Ok Faccio già schifo Se mi togli per il pump Yee Scatosh Se no Devo provare a mettermi le armi Cioè il primo slot Lo devo mettere Tipo per le cure Però Perché Di solito Io lo metto con il piccone Non riesco a Vado alla prigione di nuovo Sperando non ci venga Tantissima gente Vado raga Però cacchia È la prima città No Perché ci sto andando Vabbè Dai stavolta mi impegno Cercherò di costruire Il meno possibile Visto che Sono quelli i comandi Pi difficili Perché per il resto Non è proprio Grazie Le armi le devo mettere Due Il tre Possibilmente il pump Al tre Perché È quello Il tasto che ho Per il pump Di solito Ormai È veramente Una cosciista Andagna Dimmi che non è Un cecchino Prego E' uno scarso Vai Oh yes Scarock Ora mi metto qua dietro E camp Ragazzi Un tipo stava Sembrava nabbo Schifo Ma Tanto Ora ragazzi Vorrei prendere Un minimo Un minimo Minima di materiale Ok E poi V Giusto Yes Per prendere Ecco adesso Scude Poi Adesso mi bevo Gli scudini No No Ok Non so Perché me la sono Bevuta La slurpo Sinceramente Adesso mi dovrei Aggiustare l'inventario Ovvero La cura La roba più forte Il tre Questo Ok Credo sia più o meno Questa La cosa Più Efficace Che potevo mettere Qualcuno Suppongo Ci sia Spero di no Tutta la vita Però E questa è la vita Adesso Devo mettere Questo Ok Ok Ho il consigli di regola Ragazzi Perché di solito C'ho M4 Al 2 E il pompo Al 3 Così ragazzi Mi devo ritrovare Abbastanza bene Abbastanza Mi devo ritrovare Tipo benissimo Soltanto Ragazzi Legno Quindi c'è qualcuno Che è ufficiale Che è ufficiale C'è una bugia Potrebbe essere anche Spawnato Io però Sinceramente Ragazzi Ve l'ho detto Mi è sembrato Di averlo visto Qualcuno Atterrare Da queste parti Non lo so Forse Doveri controllare Meglio Sinceramente Non mi va Io prendo Questa cassa Vende 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 Lascio Sta caccarella Adesso A parte Per le costruzioni Dove stare Tipo Bene Benissimo C'è benissimo I miei comandi Con cui naturalmente Mi trovo benissimo Se non le varie Già cambiate Lascio Prendo Può essere utile In tante situazioni Ma non la prendo Si segna Ragazzi Di nuovo Il piano Di sedi Un'opera Però Qualtica L'aveva vinto Una volta Nella seconda Stagione Però L'aveva vinto Una volta Oddio Ragazzi Il double pump Io ho imparato A farlo bene Però Con questi tasti Non so No Mi dispiace Lasciare Le ste pende E qua M4 blu Però C'è lo scar Quanto bellotto Che sto Lo lasciare Io non so Ragazzi C'è stato Un periodo In cui Preferivo L'M4 Anche No vabbè L'M4 Blu Allo scar Non so Perché Ma Piattaforma C Oddio Mi Sei un pazzo No Aspetta Prima X Devo fare Poi C No Poi la scala Quindi così E poi C No Prima scala Poi così E poi così Tutto ciò per un cacchio di palo Vabbè In cosa in più Ehm Vabbè Credo di avere Abbastanza Lutato Sì Suppongo di sì Adesso dovrò prendere materiali Ma Neanche sprecare troppo tempo Per i materiali Siamo in safe Naturalmente Sì Eseranzialmente Sti quattro alberi Giusto per Anche perché Spero anzi Di non costruire Spero di fare tutti i fight Con nabi O In cui non c'è bisogno Di costruire Vabbè Però è difficile Che non fight Per sentire Certo Posso costruire Ma è una cosa Impossibile Con sti domandi Poi è la prima partita Che faccio Cioè io messi Io Ho ricontrollato varie volte Che siano quelli Però non l'ho mai provati Cioè la prima partita C'è una verità La seconda La seconda E fosse la terza Però insomma Tutte le partite Che ho registrato Prima di registrare No Non mi ha fatto niente Però non mi ricordo Neanche quante partite Ho già fatto Però Non mi ha notato Ma che cacchio Raga È normale? Cioè non l'ho mai notato C'è una pietra Sopra una pietra Sono due pietre Va bene Non credo sia Normale Cioè No Non credo Però Già sto iniziando A trovarmi Ma poi mi lagga pure Cioè Se mi lagga pure Con sti comandi Non si può giocare E va bene Quanti scendino Quanti scendino Anche un altro scudo Oh raga Di cuore sto messo Una course van derasic Ho soltanto Un falò Che me lo svolto Aggiuntivo Oh raga Non sto messo Per niente Male Secondo me L'avrei quasi vinta Se fossi con i miei comandi Con questo Con questo inventario Oh raga Cioè Scar Scar epico Pompare il nonno blu Vabbè Poi le cure Ne ho un sacco Cioè Sette shieldini Due shieldoni Un medikit Un falò Se non bastasse il medikit Visto che sono pieno di scudi Ma ho poche cure di vita Cioè Un medikit E un falò Quindi Potrei rifare full Un bel po' di volte Tipo Ok Non ingaggio No raga Cioè Magari lo segua Aspetta un momento In cui Tipo Si sta prendendo Una mela O facendo qualcosa Perché Oddio Ragamisha che mi ha visto Ragamisha che mi ha visto Maester fermi Vero Ottima Ragamisha Mi sono fatto una paura Quando ho messo il piccone Non lo so Mi sto Cacando Sotten Però Quello là Deve essere tipo Il king Di tutta la landa Quindi Non so Se ingaggiarlo O meno Io direi Lasciamolo stare No Vabbè raga Andiamo Sennò Non è divertente Sto video Andiamo Però ormai Sarò già Mandato io Se si ferma A lottare Ste case Però A parte A raggiungerlo Se non riesco Anche ad ingaggiarle In un buon momento Però devo stare attento A stare sempre in alto Nei suoi confronti Eccolo Sta là Ok Prendo una di queste Bastiche Per drogarsi Anzi due Non so perché Non so che cosa Serva A prenderne due Però Non lo so Io immagino Serva qualcosa Ecco Mamma mia Mitte Ti amo Toglio un sacco Di bene Poi mi capitano Pure i pro Della madonna Che cacchio Provo a curarmi Al minimo Vai bro Esci Oddio santo Aspetta Oddio 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 Santo Mamma mia Che cosa Ehi Ehi Schifoso Sei epica A schifo Ovvero Mettere i muri Finché Arrivavo giù E poi Tipo A mezzo Quando capivo Che avrei preso Almeno un pochettino Di danno Oppure senza Prendere danno Avrei messo la scala Però Sinistra